Ciao a tutti, ben tornati qui su Retail Company Simulator, versione demo Come sempre ragazzi inizio il gameplay ricordandovi brevemente che in descrizione se puoi interessarvi trovate un link che vi permette di comprare tanti giochi scontati In descrizione trovate anche i miei canali social e se non siete ancora iscritti al mio canale vi invito ad iscrivervi, vi invito anche ad abilitare le notifiche E se il video vi piace, beh lasciate anche un bel mi piace magari, se vi piace Allora dunque ragazzi penso che questo è l'ultimo gameplay che vado a fare in questo gioco perché come ho già detto qualche secondo fa questa è una demo Non è il gioco completo, in teoria arrivati al livello 5 ci rimane ben poco da fare Quindi poi bisogna aspettare la versione completa ovviamente e via E va bene, comunque tanto tra poco vi porto l'altro gioco di vestiti insomma, no? Se avete presente Che anche quello ce l'ho, quindi a breve inizio con quell'altro Allora, intanto sistemiamo un po' tutti sti bei pacchi qua Quindi la merce diciamo non ancora aperta la sto a mettere qua E poi la merce quell'altra la metto, quella aperta la metto qua Allora, questo lo mettiamo qua e va bene così Dunque che fa? Apriamo... beh sì, intanto dobbiamo arrivare a livello 5 Dobbiamo arrivare a livello 5 e poter sbloccare le altre cose Quindi al momento purtroppo essendo una demo non c'è personalizzazione Non si può allargare niente, non si può allargare il nostro negozio Magari in futuro forse questa porta si apre, non so cosa si può fare Ma soprattutto... effettivamente mi sto chiedendo... oh... Mi sto chiedendo adesso... lol, l'ho notato solo adesso Ma non è normale così... cioè... non esiste un negozio... cioè... che è mezzo aperto Cioè... voglio dire... in teoria... no... no... oh vabbè comunque... salve signore Poi non c'è neanche il pulsante per accendere e spegnere le luci Anzi, non ci stanno neanche le luci qua dentro Non so neanche come funziona la questione delle luci qui dentro Cioè non ci stanno, l'illuminazione avviene... avviene e basta Buongiorno signore, le 11 del mattino, come va? Tutto bene? 3 magliette, 2 magliette e una cannottiera, le devo dare indietro 49 euro E 30 centesimi Ecco a lei signore, buona giornata, torni presto a trovarci Salve signore, maglietta rossa per lei Signorina, prego, se è comodi, si servi pure Prenda, prenda, maglietta rossa, lo so... no... Maglietta gialla e vanno, vanno forte, vanno forte Bene, bene, bene Buongiorno signorina, anche per lei una maglietta rossa? No, gialla, giustamente la rossa ce l'ha già, che fa, un'altra rossa? Cioè basta Grazie signore dei soldi, le devo dare 57 euro di resto Ecco a lei buona giornata, torni presto a trovarsi Grazie signorina, 24 euro E 30 centesimi a lei di resto Il tuo negozio è salito di livello Questo è buono Allora, due magliette blu, una gialla, mi pare 45 euro e il resto per lei A posto Allora, mo, le magliette blu stanno a finire Di solito i jeans, stavolta magliette blu Le mirangle Allora, mettiamole qua, visto che le ho già spacchettate Magliette gialle, se ce n'è Beh, c'è Salve, buongiorno Prego, si accomodi, prego Prego, 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 io prego e lei compri Cioè, salve Separatamente Ok Allora, le devo dare 90 euro di resto Ecco a lei La sua moglie invece paga 53 euro, 47 euro di resto Il marito manco l'aspetta Arrivederla Stanno a finire i jeans Wow, 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 i jeans, i jeans Porca miseria Vanno proprio a ruba sti jeans Lasciamoli qua che vanno a ruba Magliette gialle stanno a finire un'altra volta Eh, difatti il problema di sto gioco Vabbè, una demo, no? Ancora non ci stanno i cassieri Cioè, no, non c'è niente Non ci stanno i cassieri Non ci, cioè, non ci stanno i magazzinieri Non c'è un fico secco 52 di resto a lei 210 paga il signore Le dò 90 euro di resto La signorina paga con la carta 41 euro Il signore paga invece 20 euro Le devo dare indietro 30 Al signore gli diamo 17 euro Prego, buona giornata Allora, maglietta Qual è che mi manca qua? Maglietta, turchese, base Deve essere questa I jeans vanno come sempre a ruba Perché di non rubare, va? Questa, mi pare Bene Cominciamo a comprare cose I prezzi del mercato T-shirt blu Ma questo l'avevo già fatto, no? Vediamo cosa mi manca Prima che fa scuro Prima che non si vede niente Ammazza che coda Allora, il signore paga 52 e 50 Su 140 euro, signora 70 euro ogni paio di jeans 28 euro e 50 centesimi a lei Arrivederla Ok Dai che mo' chiudiamo e compriamo Penso gli ultimi contratti Cioè per finire la demo Se più o meno la finiamo Non lo so Salve signore Allora, 51 e 50 Buona giornata, buona serata per l'appletto Appletto 140 euro e 50 euro a gallina canta Ancora non è il momento di chiudere Allora, vediamo un po' Si poteva finire Però Felpa beige E mo' qual'è? Buuuh Era questa? Sì Ah, le magliette quelle Queste qua Stanno a finire Arrivo signora Arrivo, 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 arrivo Allora, 41 euro e 50 per lei A lei di resto gli devo dare 37 140 Ammazza quanto sei alto Il signore paga 47 euro Buona giornata, buona serata Arrivederci L'ho ripreso Trovarci Ok, allora Manca Maglietta blu Dipinta di blu Che mi sa che non ce l'ha Ayu 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 Eh? Arriva un altro La turchese base Accidenti L'ha già finita Non ce n'è chiù No, questa è la turchese base Pensavo Che era finita Arrivo, no Quella rossa Questa qua Poi manca quella viola Credo 2 euro e 30 centesimi A lei Manca la maglietta rosa Che è questa Ma che è questa No Si Le ho finite Ce n'è un altro paio C'è un'altra scatola Voglio dire Allora Va bene Che manca Sto cavolo No Tutto c'è Tutto Va bene Possiamo concludere la giornata Abbiamo guadagnato tanti soldi Tante esperienze Prossimo giorno Allora Allora Fermiamo Ah t-shirt gialla Sale Felpa Beige Ok T-shirt gialla E felpa Aspetta E felpa Beige Questa qua Shandming She knew E' scesa bene 30 e 50 Andiamo Va bene Allora Torna indietro E no Contratti Allora 350 500 700 E' una parola Che piglio Vestito a polso Top Maglietta Eh ma tanto Sempre quello L'uccello Chi è che vuole l'uccello Ah Pegliamo quella più costosa Va Contratto da 700 Ok Dato che Sono Comunque Due cose Sempre Allora Aggiungi a carrello Aggiungi 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 Compra Allora Questa No Si può posare Per ora Questo Si può posare Questa è la roba Nuova Quindi la roba Nuova Equipaggiamento Beh Pichiamo la solita La solita Cose Ma non ce n'è Cappelli Per ora Da vendere Cioè Non ci stanno Contratte Di questo Genere Vabbè Quindi A doppio Asta Aggiungi Al carrello Compra Che devo fare Non c'è scelta C'è solo Questo Tutto qua È un bel problema Poco Mi sa Tanto Che forse Forse Ne prendo Un altro Po Allora Mettiamo i prezzi Mi 60 euro 43 Ok Forse Posso prendere Un altro Contratto Ci abbiamo ancora Molti soldi Contratti Firma Contratto Mercato Equipaggiamento Aggiunge al carrello Checkout Compra Che ci vuole I soldi Ce li abbiamo Allora Shopping Prodotti Cos'ho preso Nuovo Aggiungi Aggiungi Compera Questa cos'è Roba Da spiaggia T-shirt Grigia Queste mi sa Che ci vanno Proprio tutte Così Basta Ok Allora Prezzi 70 29 Sai che te dico Dammi l'ultimo Contratto Va 350 Oh Così finiamo Sto gioco La demo Più che altro Aggiungi Compra Ce la possiamo Fare Anzi Ce la dobbiamo Fare Vabbè Se ci entra No Non ci entra Qua Qua ci entra Non ci entra Ma ci entra Ma ci entra Qua Piano piano E questo Mo però Lo piazzo Qua Manca Da comprare Magliette Prodotto Nuovo Va Vedi Fatto L'uccello Ci abbiamo Anche L'uccello T-shirt Bianca Avanti Mettiamo i prezzi Qua 25 17 Siamo aperti Allora Vediamo se possiamo Comprare altre Magliette Ci sarà Scarsità Da qualche Parte Qualcosa Che mi Manca Non lo so Due In magazzino Quattro Vabbè Vediamo Dai Intanto Ragazzi Abbiamo preso Tutti i contratti Abbiamo preso Tutto Quello che si Poteva Prendere Al massimo Potrei mettere Tipo Un paio Di questi In più Se messi Bene Ne posso Prendere Un altro Al massimo Ne posso Prendere Un altro Forse Ci entra Ma dico Forse Beh si può Fa la prova Aspetta Si Ci entra Quindi il prossimo Lo posso Mettere qua Salve Prego Prego Piatevi L'uccello Insomma Prendetevi Quello Che vi Pare Insomma Bene Vedi che E' buono Avere Due Due Spogliatoi Insomma Mo' Prossima Cosa Voglio Prendere Il terzo Spogliatoio E mi sa Che poi Abbiamo Fatto Tutto Allora Signora Paga 29 Allora Signora 46 euro Di resto E 30 Centesimi Stop Senza Maniche Blu Avevo pigliolo Ah E' messo Al contrario Arrivo 44 Gatti In fila Per tre Con il resto Di 44 Che cacchio Ho detto Allora Vediamo Un po' 87 Il mio anno Di nascita Ne è passato Di tempo Allora Mi servono Li jeans Eccoli qua Stanno a finire Eccomi 52 E 50 Lei Salve Signorina Cacatta 113 Due magliette Con l'uccello Vabbè Se ti piace Problema Tu No Ecco qua Uh Bella Sexy Eh Volevo dire Sì Te devi pure provare Beh giusto Posso Eh Posso guardare No Fammi vedere Non ci fate niente Non ci vede Va bene Allora Prego 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 Si accomodi Si accomodi Prego Prego Allora 130 Dunque Devo comprare L'equipaggiamento Spogliatoio Camerino Avanti Abbiamo Il cillo Abbiamo Il cillo E Ma Ci abbiamo Pure Il terzo Camerino Bah Direi Che abbiamo Fatto Più o Meno Tutto 40 A lei 16 E 30 A lei Le do 46 E 50 Ok 190 euro Di rest No Paga Pagato 190 euro Allora Felpa Beige Vediamo Un po' Porca miseria Sono messi Al contrario Non si capisce Niente Sarà questo No No Qual è Un cliente Abbia Un prezzo Ingiusto Maglietta A maniche Corte Prezzo Ingiusto Ma dai Per 50 centesimi Ma va a cagare A che Te lo Devo Regalare Maglietta A maniche Corte E qual è Vorrei capire Qual è Sta maglietta A maniche Corte Madonna Non sto a capire Qual è Sta maglietta A maniche Corte Ma non la vedo Maniche Corte T-shirt Top Senza maniche Maglietta A maniche Corte Con print Alberi Ah questa E la miseria Per 50 centesimi In più Ma che Siete Proprio Va 69 Va I Ma Un cliente In attesa Ho capito E furioso Sta Fai mettendo I cianchi Avanti Che va a fare E per 50 centesimi In più Stavano a fare Tutto sto film Va 60 Oh Per 50 centesimi In più Top Senza maniche Blu Qualcosa di simile Non lo so Ah la giornata E' finita Quindi non posso Comprare altro Allora 14 euro A lei 84 Ecco a lei Manca qualcosa Manca nei jeans No questi che cosa sono Ah questo potrebbe Andare qua Ii ma stavano a fare Tanto di film Per 50 centesimi In più Va Ma tu pensa Cioè In teoria Potevo magari Mettere 5 euro In più Quello Il prezzo medio 50 centesimi In più E maglietta Madonna Manca la maglietta 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 Manca 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 Arrivo Eccomi 46 23 70 euro Di resti Arrivederlo Che ma Ancora clienti Canotta bianca Canotta 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 Chi sta No Canotta bianca No C'è rimasto L'uccello Boh Va bene Finire giornata Come meno 1500 Ah beh si Abbiamo speso Un mucchio di soldi È vero Ma in teoria Canotta bianca Sale T-shirt bianca Sale Canotta bianca E t-shirt Canotta bianca E t-shirt Bianca Ok Bene Allora in teoria T-shirt rosa Bene Sì ma non c'è rimasto Altro da sblocchiare No Cioè Come contratti Basta Puoi trovare i prossimi Contratti Nella versione Completa Dipendenti Non ne possiamo Prendere Espansioni Tu puoi scudare A banca No Inventario Vabbè L'inventario Utile Quello che manca Su super market Inventario controllato Alle nove Carta da parati Beh Carta da parati Ci mette Ah beh Ma questo è lo sfondo Del pc Niente In pratica Raga Non c'è rimasto Altro da fare Beh La demo L'abbiamo finita Con questo gameplay Con questo gameplay La demo L'abbiamo Decisamente Conclusa Al massimo Possiamo aprire Un'altra giornata E poi basta Perché è ripetitivo E poi Senza Senza poter Prendere un operaio Qua Uno Si confonde Di brutto Perché adesso Comincia a essere Che qui C'è troppa roba Qua Comincia a esserci Un po' Troppa roba E non ci sto a capire Più niente Senza Effettivamente Un magazziniere Qua Qualcuno che si occupa Di mettere Le magliette Troppo Complicato Troppo 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 Sto cominciando A confondermi A maglietta A maglietta bianca Di shirt Bianca Vanno qua Apri Avanti Ultima giornata Di apertura Poi basta Finiamo Con sta demo Tanto non c'è fretta Di spostare le cose In magazzino Perché tanto Da tanto Non c'è nessuno Che le sistema Ma qual'è sta t-shirt Con le maniche blu Mi manca la t-shirt Con le maniche blu Top senza maniche blu Top senza maniche blu Non l'ho comprato Top senza maniche blu Nel magazzino sei Sulu E sulu che non lo trovo Ah qua è madonna E sulu che non lo trovo Va bene Allora Questa è Canotta bianca Cano 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 Canotto Cano Cano Cani Ecco qua Va bene Vestita Poise giallo C'è un cliente Che mi aspetta Ma è solo uno Arrivo Cacciai Acuda Allora 20 di resto Per lei Per lei 111 Per lei 80 Per lei Allora Manca sempre Il vestita Poise giallo E quale cavolo È questo No Boh Quale è questo Si C'è un po' di confusione Devo dire Parecchia Diciamo che c'è da impazzire Va C'è un po' da impazzire Purtroppo Con tutti questi vestiti Ci vuole proprio Poi Cioè Ci vuole nell'aggiornamento Qualcuno che dà una mano Alla cassa Cose così Sennò diventa troppo incasinato Allora 55 a lei Buona giornata Il signore paga 115 Sta finendo l'uccella La signora se l'è preso tutto Eeeh Dov'è? Allora Cambiamo qua Mmm Boh Vabbè Per ora Ancora Ce n'è Vedete che si mi ha picchiato l'uccello Allora 11 Di resto Per lei Eeeh 93 E 50 centesimi In due negozio Ah Si può ancora salire di livello Vabbè Però ovviamente Non si può sbloccare nient'altro Si sale di livello Ma non si sblocca niente Eccomi qua 138 a lei Venghi 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 Signorina Venghi 76 Di resto Per lei Fa pure rima All'incirca Questo sta picchiando tutti i canotti Allora Stanno finendo le t-shirt Turchese base Ok 37 Grazie Buona giornata signore Donnei presto a trovarci No Ah 97 50 Pensavo che era solo 97 61 Allora Situazione Per ora Può andare Canotte Bianche Maglie Viola Allora 12 Ecco a lei Devo sempre tenere d'occhio qua che la roba finisce Ah c'è Ah c'è già un cliente 24 Allora t-shirt gialla prezzo ingiusto Mamma mia ma perché? Ah è sceso Non lo sapevo 114 114 Non ci ha fatto caso che era sceso 83 Quello 52 A questa Prego Buona giornata Stava a finire la maglia rosa Dovebbe essere questa No Allora 10 euro Di resto a lei Sta a finire il nuovo l'uccello Beh l'uccello va a ruba Uè Do sta? Li ho finiti Forse va proprio a ruba l'uccello Li ho finiti A meno che non sta qua Mi pare di no No Finiti Caspita E la giornata si è conclusa Cavolo Eh vabbè Eh sì Li ho finiti proprio Vabbè va Tanto Comunque la demo ormai L'ho finita 68 A lei 34 210 No 90 del resto Stanno a finire i jeans Quelli almeno Dovrei averli Ultimi due uccelli rimasti Ecco qua Allora 19 del resto a lei Livello 6 Abbondante Oltretutto 78 Oh madonna Umhouse È volato via Avanti Questo è l'ultimo cliente Addirittura Addirittura T-shirt grigia Per esempio È scesa pure A 25 Va bene Allora ragazzi Noi concludiamo qui Proprio la demo Aspettiamo adesso Il gioco completo E speriamo che c'è Molto di più Ovviamente Quindi spero vi sia piaciuto Questo gioco Fino a qui Questa versione Diciamo di prova Mi raccomando Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel Pollicione in su Ci becchiamo Ciao alla prossima Ragazzi Ciao alla prossima